Già la vecchia amministrazione nel 2019 fu costretta a farla proprio per la situazione di blocco della costruzione dei nuovi loculi. Tra parentesi noi nel frattempo alcuni loculi li abbiamo anche costruiti ma sono stati ovviamente utilizzati tenendo conto che a Chieti in genere su una media di 500 decessi all'anno e di cui una parte ha necessità di avere una sistemazione attraverso i loculi. Come riferisce l'assessore ai servizi cimiteriali Alberta Giannini non è una novità l'ordinanza firmata ieri dal sindaco di Chieti Diego Ferrara in cui si dispone la requisizione di 20 loculi tra tutti quelli concessi a cittadini ancora in vita. Come dire il rischio collasso al cimitero Sant'Anna a causa degli spazi saturi. Una situazione resa ancora più complessa perché è legata al bilancio dell'ente che di fatto è bloccato al ministero dell'interno a causa del dissesto. Ancora l'assessore. Purtroppo sì perché al momento noi possiamo garantire solo le somme necessarie al pagamento degli stipendi dei lavoratori interinali ex teatro e servizi che abbiamo riassorbito non come servizio che non è stato mai gestito dalla teatro e servizi ma come lavoratori e non abbiamo adesso la possibilità di fare investimento sul cimitero e quindi ad esempio costruire nuovi loculi o predisporre nuove strutture. E quindi sì insomma la situazione è emergenziale. Speriamo che nel frattempo il ministero ci approvi il bilancio in maniera tale da poter finalmente programmare un'azione decisiva e drastica sul cimitero. Se mai dovesse accadere un evento luttuoso ovviamente alla persona alla quale abbiamo requisito il loculo verrà restituito immediatamente. A Chietiscalo c'è un altro cimitero che di fatto però è fermo. Questo è un altro capitolo infelice che abbiamo ereditato perché quell'appalto è nato male ed è andato avanti, cioè meglio non è andato avanti perché ci sono stati dei problemi nel momento dell'affidamento. Il progetto secondo anche noi ma gli uffici è sovradimensionato rispetto a quelle che sono le necessità della città e non solo. Siccome all'emissione dei primi bandi della ditta hanno aderito solo 200 cittadini che non vedendo risultati concreti non hanno più ovviamente avanzato nessuna proposta. Per cui anche lì c'è uno squilibrio finanziario e economico su quale stiamo ragionando per capire come risolvere il problema. Grazie.